Allora, la prima cosa che bisogna fare, se il pennello è protetto con l'olio di vaselina, è togliere via con l'acquaraggia, o con l'essenza di trementina, meglio l'acquaraggia costa di meno il colore. Dopodiché faccio anche un'altra cosa, avvino il pennello, ovvero prendo il medium e ci intingo il pennello, poi asciugo, a questo punto ho il pennello, bello flessibile e molto molto preciso, guardate quanto è tagliente, ok? Adesso torniamo a ragionare sulle ombre principali, so chiudo gli occhi, guardo il modello, guardo questo, questa è una zona importante, questa è una zona importante, comincio col miscuglio di terra d'ombra e blu senza bianco, e quindi comincio ad andare a definire un po' di forme, praticamente non c'è, tranne l'olietto che imbeve il pennello, non ho medium, il colore è puro, come esce dal tubetto, poi una volta che lo do lo lavoro anche subito. Grazie a tutti.